Il matrimonio è possibile solo tra uomo e donna, si tratta di un sacramento che la Chiesa non ha il potere di cambiare, lo ha detto Papa Francesco ai giornalisti durante il volo di ritorno dalla Slovacchia. Per il pontefice che è omosessuale può unirsi tramite le leggi civili, il matrimonio è matrimonio, questo non vuol dire però condannarli, ma dobbiamo accompagnarli. Bergoglio si è poi soffermato sul tema dell'aborto, che per lui resta un omicidio, ma ha aggiunto non bisogna togliere la comunione a quei politici che difendono la libertà di scelta delle donne.